In provincia di Catanzaro, gli studenti sono tornati sui banchi per iniziare un nuovo anno scolastico, un ingresso accompagnato dalla presenza dei carabinieri. Nell'intera provincia, infatti, il comando provinciale carabinieri di Catanzaro ha incrementato le battuglie a piedi e automontate in corrispondenza degli orari di apertura delle scuole, dimostrando, è scritto in una nota, sin dal primo giorno la vicinanza dell'arma al mondo scolastico, agli studenti e ai genitori per continuare a costruire un futuro improntato sulla legalità e sul rispetto dei diritti di ogni persona. La scuola, sottolinea l'arma, è il luogo dove i giovani pilastri del domani crescono, si formano e si preparano a entrare nel mondo del lavoro e della società. Non è solo un luogo di studio, ma è anche un ambiente di coesione e di socializzazione.